Lunedì si riapre ufficialmente Palazzo Margherita, sede del Comune, ma sulla Torre Civica ci sono ancora dubbi sulla sicurezza. Alcuni uffici già sono tornati lì. L'opposizione ha acquisito ieri la perizia sulla sicurezza della torre, che lascia dubbi perché sulla sicurezza di quel progetto che è stato stralciato dall'altro non si dice assolutamente nulla. Hanno detto i consiglieri Lorenzo Rotellini, Paolo Romano e Stefania Pezzopane, una relazione di sei pagine che altro non fa che una cronistoria di ciò che è accaduto sino ad oggi. Ci sono due aggregati separati con giunti tecnici, come si sa il collaudo è stato eseguito solo all'aggregato di Palazzo Margherita, mentre la torre è rimasta sempre così in pratica o quasi dal 2009. Questa relazione tutto dà tranne che quella certezza di sicurezza che invece ci saremmo aspettati e che i stessi dipendenti e cittadini si sarebbero aspettati. Purtroppo non si vede quella certificazione, anzi ti lancia ancora più dubbi. Fa una cronistoria di tutto quello che è stato il puntellamento e quindi il lavoro anche di messa in sicurezza della torre e ti dice che dal 2011 al 2018, cioè nelle tre perizie che sono state fatte, c'è stato uno scostamento evidente da parte della torre, molto più evidente nella perizia del 2018, e ti dice che questa società a cui era stata affidata di fare questa relazione, questa perizia della messa in sicurezza, di fatto non è stata in grado di interagire, di verificare l'efficacia di quella messa in sicurezza perché essendo imbragata, diciamola in maniera sintetica, la torre non si era in grado di andare a fondo e quindi di fare quella verifica puntuale. Fatto sta che la verifica è stata fatta sul carteggio già esistente da parte del Comune che evidenzia comunque sia una situazione di urgenza nell'intervento, evidenzia un fatto che ad oggi il principio per cui si era fatto l'affidamento per la perizia di fatto non ha portato a nessun obiettivo e ancora oggi ci chiediamo se è sicura la torre oppure no. In Consiglio Comunale proveremo anche a far richiedere una conferenza dei capigruppo urgente perché io dico che i dipendenti devono essere sicuri, devono sentirsi al sicuro all'interno di Palazzo Margherita e quindi pertanto chiederemo la presenza di tutti quanti gli attori protagonisti per dare una certezza in più a questo percorso che continua a essere sempre claudicante.